Angelo secondo Luca In quel tempo il Signore disse Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri Essi li uccisero e voi costruite Per questo la sapienza di Dio ha detto Manderò a loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno E perseguiteranno Perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti versato fin dall'inizio del mondo Dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria Che fu ucciso tra l'altare e il santuario Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione Guai a voi, dottori della legge Che avete portato via la chiave della conoscenza Voi non siete entrati E a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito Quando fu uscito di là Gli scrivi e i farisei Cominciarono a trattarlo in modo ostile E a farlo parlare su molti argomenti Tendendogli insidie Per sorprenderlo in qualche parola uscita Dalla sua stessa bocca Fratelli, oggi il Signore ci parla di una casa Perché la chiave della conoscenza Fa diretto riferimento a una chiave concreta Di una stanza concreta, di una casa concreta Non è una cosa così ideale Si tratta della yeshiva Si tratta della casa della conoscenza La casa dove si impara la Torah Dove si acquisisce la sapienza La conoscenza dell'amore di Dio La conoscenza di Dio attraverso l'immersione Nello studio della Torah A yeshiva dove ancora oggi I uomini del popolo di Israele Studiano, ruminano, scrutano la scrittura Ebbene, questa casa Questa stanza Che è un po' una profezia Anche della cal Della chiesa, dell'ecclesia Che è l'assemblea convocata dalla parola E' da dove noi possiamo conoscere Attraverso la parola E per noi la parola fatta carne Che è il nostro Signore Gesù Cristo L'amore di Dio L'accesso a questa stanza Avviene attraverso una porta Che ha una chiave Ebbene, questa chiave che era stata data Al popolo di Israele E sognatamente Ai suoi responsabili Questa chiave invece di aprire Chiudeva Gesù riconosce questo Gesù denuncia Guai, guai E questo guai è un lamento fune per i fratelli Cioè è un lamento d'amore È uno strazio Del cuore di Cristo Per vedere i primogeniti di Dio Quelli ai quali Dio aveva dato la chiave Perché aprissero La porta del suo cuore La porta della sua parola Al popolo E attraverso il popolo Al mondo intero Alle nazioni Proprio loro Avevano chiusi E ne erano rimasti fuori Non entrate voi E non fate entrare nemmeno gli altri Quelli che volevano entrare I piccoli I poveri I peccatori I deboli I incoerenti Ma insieme a loro Questi che avevano la primogenitura Avevano lasciato di fuori Non soltanto Quelli che in fondo disprezzavano Il popolo Questo popolo è maledetto Perché non conosce la legge Dice In un altro posto Ma erano fuori anche loro Sotto la stessa maledizione Gli uomini Tu e Dio Che abbiamo La primogenitura Cioè che siamo stati scelti Eletti Chiamati Da Dio Per conoscerlo A noi che è stata data A noi preti Per questo è una parola innanzitutto Per i preti Ma poi non solo per i preti E per chiunque abbia Una minima responsabilità O grande responsabilità Verso un altro Quindi tutti Perché tutti abbiamo una responsabilità Verso il nostro fratello Verso il nostro figlio Verso la nostra nipote Verso la nostra moglie Verso il nostro marito Verso il fidanzato Verso il fratello Abbiamo una responsabilità Anche se non siamo Catechisti o sacerdoti Presbite o vescovi Abbiamo una primogenitura Perché per il fatto di essere stati chiamati In una chiesa Siamo dei primogeniti A noi è stata consegnata questa chiave Attraverso la quale possiamo Rientrare in comunione con Dio Cioè nella conoscenza E la conoscenza è intimità È quasi unione sessuale Cioè essere una sola cosa con Dio Ma che cosa ne abbiamo fatto? Che cosa ne hai fatto tu di questa chiave? L'hai buttata via O meglio L'hai usata per chiudere L'hai usata in maniera innaturale Hai chiuso la porta Perché ti è salto Dio Perché hai deciso tu come usarla Hai deciso tu Ho deciso io Come, quando, aprire o chiudere Allora Quando la chiave è usata Con l'orgoglio Con la superbia Quella chiave smette di aprire E chiude Chiude solo Perché la superbia rompe La comunione con Dio Ti sbatte fuori dal paradiso Quella chiave Si è usata Con amore Si è usata nell'amore A quella scanalatura Che si chiama amore Che è Il cuore del tuo fratello Che è la ferita del tuo fratello Che è la debolezza del tuo fratello Che è la povertà del tuo fratello In quel momento Quella chiave apre Al fratello e a te Perché è nell'amore Apre per te E per tuo fratello Per tua moglie Per tuo marito Per chi sia Apre la porta di questa casa Dello studio della Torah Della conoscenza dell'amore di Dio Questa porzione di paradiso Lampara dei miei passi La tua parola Cioè la Torah era tutto per Israele La Torah è come un meteorite del cielo Del paradiso perduto È un frammento È un souvenir Qualcosa Cioè nella parola c'è tutto Con l'amore Si apre questa porta E possiamo entrare Ma se non c'è l'amore C'è la superbia L'orgoglio Di chi Si crede Dio E quindi Usa quella chiave per chiudere Ma se chiudi quella porta Tu sei in un sepolcro Se noi chiudiamo la porta Perché chi sta fuori da quella casa Chi sta fuori da quella stanza Della conoscenza È nell'inferno fratello Cioè non ci sono vie di mezzo Sei in una tomba Per questo Gesù parla di tombe L'opposto Di quella casa Di quella stanza Della conoscenza È l'inferno È la non conoscenza Cioè È la stoltezza Cioè È l'orgoglio che acceca Cioè È il non amore È il rancore È l'odio La violenza La concupiscenza La lussuria La gola Sono i sepolcri Che noi prepariamo Alla parola dei profeti Non c'entra più Arriva un prete Arriva tua madre Arriva tua moglie Arriva tuo marito Arriva un catechista Non lo ascolti Non lo ascolti Anzi Lo uccidi Sì Contribuisci a quello Che hanno fatto tutti gli altri In che senso Molto semplice Fratello Con la tua Malvagità Con la tua superbia Con la mia superbia Con la mia stolta superbia Apro davanti al profeta Che è anche fratello Come Abele Un sepolcro E lo chiudo E lo sigillo Per questo Quella chiave Chiude i profeti E noi Dentro la stessa tomba Nel buio Nel fallimento Nella frustrazione Del piano di Dio Ma Benedetto sia Dio Padre Nostro Signore Gesù Cristo Perché in Lui In Cristo Che è colui Il quale Ha messo la sua carne Su questa chiave Che è la croce Perché quella scanalatura Che apre La porta della scienza Della conoscenza Che apre le porte del paradiso È la croce Fratelli carissimi Che ha una scanalatura Molto 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 speciale Che si chiama amore Che si chiama perdere la vita Che si chiama rinunciare a se stessi Su questa chiave Ha disteso le sue braccia Diventando una sola Cosa con lei Con questa croce Nostro Signore Gesù Cristo L'unico Che può aprire Di nuovo Quello che noi abbiamo chiuso La tomba che noi abbiamo chiuso Sopra di noi Con i nostri peccati Lui è sceso lì Lui è venuto Molto più Che profeta Laddove Abbiamo chiuso tutti i profeti Laddove abbiamo Buttato via Tutte le profezie Tutte le parole Che non abbiamo ascoltato Che ci avrebbero salvato Cristo stesso Viene a morire Per questo dice I vignagnolli omicidi Prima prendono Bastonano Uccidono tutti Quelli che sono stati inviati E poi Anche il figlio uccidono Per avere L'eredità Bene Perché si accolma La misura Perché si capisca Perfettamente Chi sei tu Chi sono io Uno che non c'ha sapienza Uno che ha disprezzato A primo genitura Bene A questa persona Che sei tu Che sono io Oggi viene il nuovo Cristo Umile Mite Inchiolato su questa croce Inchiolato su questa chiave La vuoi prendere O non la vuoi prendere E questo è il punto Vogliamo prendere questa chiave Di nuovo La Chiesa ce la offre Attraverso il sacramento Che è il perdono dei peccati Attraverso l'eocaressia Attraverso la preghiera Attraverso questa parola Attraverso la parola Che ci offre la Chiesa Attraverso la vita comune E la Chiesa che Come sapete Durante molti secoli L'architettura della Chiesa Era a forma di croce Con l'altare Nel cuore Dove i due assi I due assi Si incontrano Lì l'altare Al centro Al cuore della Chiesa Lì Ti aspetta Cristo Cristo ti offre di nuovo La chiave Per uscire Dall'inferno Per uscire Da quella incapacità Di amare tua moglie Da quel peccato Da quel dolore Da quella Angoscia Terribile Che è idolatria Che è incredulità Da quella depressione Spirituale Perché sei abitato Su te stesso Perché sei abitato Sul tuo ego Sui tuoi criteri Non riesci ad uscire Non riesci a guardare Più avanti Il tuo naso Solo ci sei tu Solo ci sono I tuoi bisogni Le tue necessità Le tue idee I tuoi ideali E non vedi Di faccia a nessuno E chiudi Con le tue leggi Perché tu sei Dio E quindi ti vuoi fare le leggi Vuoi essere le leggi A te stesso Legge per gli altri E chiudi 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 Moralismi Moralismi Legalismi Legalismi Tutto a soffocare Perché sei soffocato Soffoca chi è già stato soffocato Cara Menzogna del demonio Bene fratelli Cristo viene E rompe tutto questo Oggi Oggi Viene La chiave della scienza Ti la regala di nuovo La vuoi Vuoi aprire questa sepolcro Vuoi poter passare con Cristo Dalla morte e la vita Vuoi passare con Cristo Dalla ignoranza Alla conoscenza Dalla stoltezza Alla sapienza Vuoi E' possibile Perché queste chiavi Sono state date a Pietro Fratelli E Pietro Che entra ogni giorno Nel conclave Cioè In quella stanza Che è la Cappella Sistina Chiusa Per partecipare E ricevere Del ministero Di nostro Signore Gesù Cristo Partecipare Al ministero Di salvezza Di nostro Signore Gesù Cristo Perché la Chiesa Unita a Pietro E' il corpo di Cristo Che si fa chiave Per te Che sei dentro Alla Chiesa E con te Si fa chiave Per questa generazione Aprendo Le porte del paradiso Aprendo le porte Perché la Chiesa La comunità cristiana E' l'anticipo Del paradiso E' quella porzione Di regno dei cieli Dove si conosce Dio Attraverso la sua parola Che si fa carne Dove si ama la parola Dove si danza con la parola Dove si scruta quotidianamente la parola Perché la parola è la vita Vuoi amare tuo figlio Vuoi avere discernimento Per vedere come E che cosa dire A tuo marito O a tuo nipote O a quel parrocchiano Scruta Scruta Stiamo fratelli Tutto il giorno Ruminando la parola di Dio Perché Cristo ci apre Questa intelligenza Dopo risorto Dice aprire loro la mente All'intelligenza delle scritture Cioè All'intelligere A vedere oltre A vedere attraverso I fatti L'opera di Dio Questa è la scrittura Che si fa carne La parola che si fa carne Dio Che si è fatto carne Attraverso il suo figlio Gesù Cristo La parola sua Che si fa carne Nella tua vita Per cui ogni aspetto Ogni momento Ogni istante diventa Il luogo Dove conoscere Dio Signore di nostro Gesù Cristo Che si dona a noi Per questo ricevi questa chiave E oggi Di nuovo Vengono a noi i profeti Viene a noi il vero profeta Che si adagia sulla croce Per entrare nella tua morte E ti darti fuori E con lui Poter passare E riconoscere In ogni evento In ogni situazione Nella nostra vita Questa porta Davanti a noi Che soltanto Quella chiave Che ha la scanalatura Dell'amore Della misericordia Della pazienza Della tenerezza Della dolcezza Tutto quello che I frutti dello Spirito Santo Che ci vengono dati Nella Chiesa Quella chiave Solamente può aprire Quella porta che Si separa da tua moglie Guarda un po' Per aprire La porta che si separa Da tua moglie Tua moglie così com'è Tuo marito così com'è Tuo figlio Tuo genitore Tuo fidanzato Tuo fratello Tuo collega Così com'è Per aprire quella porta E entrare in relazione Con l'altro Con il fratello Scoprendo che è lui Quel luogo Che Dio ha preparato per te Per farsi conoscere Perché tu possa Sperimentare il suo amore Perché tutto questo si dia Perché si rompa la barriera Hai bisogno della Chiesa Di un cammino serio Di conversione Nella Chiesa Dove il Signore A poco a poco Attraverso i sacramenti Attraverso la predicazione Attraverso l'esperienza Del perdono Dell'incontro reale Con Cristo risorto Nella tua vita Che significa Perdonare tua moglie Che significa Perdonare tuo marito Aprirti alla vita Accogliere la vecchiaia Le malattie La solitudine Tutti i segni Della vittoria Di Gesù Cristo Sulla morte Nella tua vita Apre la tua mente All'intelligenza Delle scritture Ti riconsegna Quella chiave Che il demonio Ti ha sottratto Buona giornata